e da questa domenica e quindi con l'inizio dell'avvento entra in vigore nella maggior parte delle diocesi italiane il nuovo messale noi abbiamo contattato un dottore dottore in lettere classiche neo dottore in lettere classiche e liturgista soprattutto della nostra diocesi don luigi carbone al quale do il benvenuto perché in collegamento skype buongiorno a tutti buongiorno anna maria sempre con la solita gioia e con la solita verve che ti caratterizza grazie buongiorno è molto molto fa la compagnia don luigi e allora c'è questa grande novità per le messe per quanto riguarda le celebrazioni noi vogliamo insomma da te un riassunto in pochi minuti quali sono i più grandi più sostanziali cambiamenti per quanto riguarda l'assemblea ma anche per quanto riguarda il celebrante sì per quanto riguarda l'assemblea i cambiamenti non sono tantissimi in realtà si tratta un po di fare una certa abitudine alle nostre formule celebrative ma anche soprattutto da parte delle nostre assemblee di fare una piccola abitudine e un piccolo sforzo mentale perché a volte la preghiera può essere così meccanica da risultare insipida nel senso che il cambiamento di rilievo facciamo subito l'esempio io ho qui portato il messale giusto così per dare un'idea grande sì sì è qui il cambiamento più rilevante è quello del padre nostro in base alla nuova traduzione del padre nostro e il grande cambiamento è non abbandonarci alla tentazione al posto del vecchio non in non indurci in tentazione non ci indurre in tentazione e l'altro piccolo cambiamento del padre nostro che rispecchia la letteralità del testo latino sicu tet nos quindi come anche noi li rimettiamo i nostri debitori quindi c'è quella anche in più che dobbiamo ricordarci e poi abbiamo detto diciamo questo i maestri biblisti sono un po più esperti di me quel non abbandonarci alla tentazione vuole dare l'idea del chiedere l'aiuto divino nel momento in cui siamo nella tentazione per non soccombere quindi nella tentazione quel non ci indurre era così un po ambiguo perché poteva dire che il signore ci inducesse quasi a peccare quindi l'italiano nella nuova traduzione italiana ha reso meglio questo concetto insomma don luigi ti faccio una domanda un dubbio che potrebbe venire anche a qualcuno che ci sta seguendo che è venuto magari in fondo è vero che le tentazioni le compie il diavolo no il male ma qualcuno diceva che ha potrebbe essere anche vista come una prova da parte del signore per essere seguito affinché insomma i fedeli dicano rinuncino alla tentazione seguendo il signore non non comunque non era del tutto sbagliato anche prima visto che l'abbiamo recitato per anni senti e visto che ormai lo diciamo sono un po' esperto di questo tradurre il tradurre da un testo originale soprattutto antico è sempre un tradire ecco perché ogni tanto le conferenze episcopali elaborano nuove traduzioni ma la nuova traduzione è sempre un tradire che significa significa che mai appieno un testo sarà comprensibile perché dobbiamo tornare alla mentalità antica con cui e nella quale fu scritta quindi questo non significa che scado nel relativismo per così dire semantico il problema è che un testo antico deve essere tradotto anche secondo una capacità di comprensione moderna se qualche anno fa nel 70 fu tradotto non ci indura in tentazione oggi la migliore traduzione è questa perché ci dice qualcosa che ci diceva anche all'epoca cioè non si tratta di fare archeologismo linguistico si tratta di incarnare la parola di dio nell'oggi e di farla comprendere oggi quindi le nuove traduzioni servono anche a questo i ritocchi anche formali stilistici e retorici ma al di là di questo magari un biblista saprebbe meglio diciamo spiegare la situazione gli altri cambiamenti altrimenti in questi minuti parliamo di ragione sono di questo gli altri cambiamenti più rilevanti sono quella modifica e quel miglioramento al gloria non c'è più di buona volontà ma c'è amati dal signore riprende un po luca il greco è quello no il greco è agapetos cioè amato dal signore ma anche san paolo misterio il testo eudokias il mistero della sua benevolenza il signore ama e quindi noi siamo amati dal signore e anche diciamo le altre due più sostanziali sono queste e dobbiamo ricordarlo durante la preghiera eucaristica seconda c'è una traduzione letterale ma anche poetica direi dell'epiclesi sui doni eucaristici il testo latino originale del messale in latino dice al momento della consacrazione nella seconda preghiera eucaristica spiritus tui rore sanctificas sanctifica scusami un imperativo quindi santifica con la rugiada del tuo spirito il testo letterale è sempre stato questo col nuovo messale abbiamo ripreso questa traduzione letterale perché è molto poetica e soprattutto biblica nella nuova traduzione del messale dell'83 se ricordiamo è molto più generica santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito va bene ce la siamo sbrigati così questa traduzione attuale inserendo la rugiada dello spirito vuole inserire un elemento vetero testamentario nell'antico testamento la rugiada è sempre stata presente come immagine simbolica di una presenza divina ricordiamo sea ricordiamo gedeone ricordiamo anche la vergine maria addombrata dello spirito santo lo spirito santo che è come questa nube e le nubi sono fatti di acqua di rugiada la rugiada che cos'è la rugiada è un elemento silenzioso un elemento che non disturba un elemento che si propone all'uomo ma non violenta la capacità dell'uomo di rispondere a dio questa è la rugiada e poi del resto in un contesto agricolo pastorale come era quello era quello diciamo degli antichi israeliti in cui la rugiada era importante magari per la fioritura delle messi e della semina è un elemento essenziale l'acqua la rugiada è un elemento di dio quindi magari ecco traducessimo sempre in maniera letterale ma attenta all'uomo di oggi tutto questo quindi questo è stato secondo me una soluzione altrettanto vincente perché recupera questo elemento altrimenti dimenticato nella vecchia traduzione l'altra cosa anna maria velocemente è il cambio della sequenza della risposta dopo l'agnello di dio se ti ricordi bene dopo l'agnello di dio noi dicevamo beati gli invitati alla cena del signore ecco l'agnello di dio che toglie i peccati del mondo adesso si recupera nella traduzione la traduzione italiana è l'esatto calco del latino anche qui nel messale il latino e quindi diciamo la traduzione italiana dell'83 ha fatto questa inversione nella nuova traduzione abbiamo ripreso l'ordine della traduzione latina e anche la terminologia data quindi c'è un continuum narrativo agnello di dio che toglie i peccati del mondo eccetera eccetera e allora il sacerdote esclama in questo si dice si dice in questa climax no in questo movimento ascendente di diciamo di tensione spirituale ecco ecco l'agnello di dio quindi subito l'attenzione è puntata a quell'agnello di dio che si è appena cantato o o o esaltato o inneggiato ecco colui che toglie i peccati del mondo beati gli invitati attenzione alla cena dell'agnello e qui si riprende l'elemento di apocalisse la cena di nozze dell'agnello quindi è qui interpretato in senso escatologico cioè l'eucarestia è una prefigurazione del banchetto finale del banchetto celeste non è semplicemente una cena del signore ma è una cena escatologica l'eucarestia è un anticipo di quello che noi vivremo diciamo così in alla fine dei tempi nel nel paradiso e quindi questi più o meno sono gli elementi come dire formali ma anche sostanziali su cui si basa la traduzione del nuovo messale per il resto è tutto uguale insomma l'aggiunta di fratelli e sorelle no questa consuetudine di celebrare in questo senso le quote rosa anna maria le quote rosa si diciamo che io personalmente non mi sono mai sentita offesa dal fatto che venisse omesso il termine sorella insomma non per questo lo si escludono e diciamo che alcune di noi tante non hanno subito insomma una grande offesa assolutamente ci faceva piacere far parte di questa grande umanità quindi considerandoci fratelli tutti a proposito dell'enciclica di Papa Francesco Don Luigi io ti chiedo ovviamente noi stiamo facendo una sorta di palestra già da qualche domenica a messa e il nuovo messale però sarà obbligatorio a partire dal 4 aprile del prossimo anno quindi insomma da oggi inizia l'avvento cominciamo tutti con queste nuove diciture diciamo così però secondo te ti faccio questa domanda perché magari lo sai più di tutti noi chi avrà maggiore difficoltà a cambiare queste formule beh oggi inizia l'avvento però vorrei anche dire che nei prossimi giorni avremo già diciamo i primi risconti da parte dei parroci dei sacerdoti già qualche voce diciamo io l'ho ascoltata qualche tempo fa in maniera informale è un pensiero mio però i sacerdoti soprattutto quelli un po ipovedenti dovuti anche all'età insomma hanno lamentato il fatto che il carattere delle lettere il cosiddetto tondo romano insomma fosse non fosse in eretto insomma il vecchio messale aveva i caratteri in eretto e quindi ma io credo che sia anche una questione di abitudine dobbiamo fare l'occhio non solo alle lettere ma anche all'impostazione grafica delle pagine quindi dobbiamo abituarci che in quel in quella pagina in quello schema la nuova preghiera caristica il nuovo ordo miss e lo abbiamo in maniera diversa rispetto al precedente messale quindi dobbiamo fare un po lo che una questione di abitudine poi tante cose noi preti le sappiamo a memoria tranne ecco ripeto i cambiamenti dobbiamo un po stare attenti anche voi e non abituarci alla meccanicità che se è vero che l'abitudine una cosa buona perché un abitus c'è uno stile di vita ovviamente è anche inteso in senso negativo perché magari noi diciamo ma non riflettiamo e quindi dobbiamo abituarci a questo esercizio un esercizio di pazienza e di preghiera dico io e questo insomma si ripercuoterà sia sui sacerdoti sui celebranti che sull'assemblea un po di allenamento andiamo a messa così viene più facile soprattutto al padrenostro perché diciamo il padrenostro è la questione più difficile in parrocchia mia sono mesi che sto abituando sto facendo abituare l'assemblea al padrenoso eppure eppure ogni tanto ma è questione di di sana abitudine spirituale dico io e allenamento spirituale allenamento allenamento sì sì vero vero allora ti ringraziamo don luigi sei stato preziosissimo in questa giornata per dare anche questo inizio ecco un nuovo inizio sul modo di celebrare di partecipare alla santa messa ti ringraziamo ti auguriamo un buon cammino in avvento ma ci ritroveremo sicuramente anche a voi da oggi a seguire grazie e ancora auguri per tutto il tuo percorso grazie 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 buona domenica a tutti una domenica ciao anna maria